Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e l'opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport chiedo scusa per questa location inconsueta, purtroppo degli impegni degli imprevisti mi hanno costretto a cambiare i programmi di oggi ma c'è una partita che ho seguito ieri della quale vi voglio parlare, ovvero il recupero tra il Palermo e il Brescia gara che ho seguito, vittoria del Palermo 1-0, un successo molto importante, quello degli uomini di Icorini che ottengono tre punti fondamentali per la classifica svoltando un momento che si stava facendo un po' delicato per la classifica e lo ottengono nella maniera direi quasi più insperata perché sicuramente la prestazione del Palermo non è stata delle migliori il gioco ha un po' latitato, la partita è stata sicuramente complicata contro a mio avviso un buon Brescia la squadra di Castaldello subisce una sconfitta pesante perché è oramai un filotto di sconfitte consecutive che mettono a repentaglio anche la panchina del mister, come sapete sempre aria molto tesa a Brescia ho letto addirittura una possibilità incredibile che potrebbe vedere D'Angelo sulla panchina del Brescia e non credo che caratterialmente D'Angelo potrebbe legare più di tanto Concellino così come in generale faccio fatica a immaginare quale allenatore potrebbe scegliere di andare a lavorare in una piazza peraltro importante come Brescia ma in un momento così delicato però il Brescia trova abbia giocato una partita comunque non disprezzabile ha attaccato, ha costruito occasioni è stata anche nei primi minuti di gioco molto pericolosa il Palermo ha fatto veramente fatica a sviluppare calcio però ha vinto grazie a una giocata individuale eccezionale di uno dei giocatori che credo possa assolutamente abbire un posto da titolare ovvero Valente che ha giocato molto molto bene ed è stato protagonista dell'azione del gol con una gran giocata sulla fascia un cross sul quale è stato molto bravo Koulibaly che ricordo lo scorso anno in una stagione molto complicata con la maglia laternana pur essendo un giocatore che mi piace molto che in tuffo è nato ad anticipare il troppo morbido fogliata e ha messo il pallone in rete per l'1-0 anche nel secondo tempo il Brescia non ha fatto mancare una certa pressione nei confronti del Palermo ha costruito qualche occasione davanti sono partiti Moncini e Borrelli Borrelli ha inscenato una battaglia aspra con i difensori del Palermo anche direi con l'arbitro Camplone che l'ha preso un po' di mira poi è entrato nella ripresa Bianchi e proprio Bianchi Moncini sono stati protagonisti di diverse opportunità alcune potenziali più che reali ma alcune anche concrete per cercare di realizzare il gol del pareggio il Palermo poi con l'inserimento di Soleri e di Di Mariano ha avuto viceversa anche delle possibilità di poter cercare di realizzare poi il gol del 2-0 partita che è stata aspra, combattuta, intensa fino alla fine è stata anche piuttosto divertente da vedere per uno spettatore neutrale però devo dire è un risultato importante davvero per il Palermo che mi ha impressionato invece come solidità difensiva non è una sorpresa naturalmente perché lo dicevo ancora nei video di quest'estate avere preso Lucioni vuol dire essersi messi in casa quello che è uno specialista delle promozioni un leader dello spogliatoio un leader in campo un giocatore assolutamente forte e fondamentale per quelli che possono essere le ambizioni del Palermo era partito Ceccaroni come titolare lo ha poi sostituito dopo l'infortunio Marconi, devo dire Marconi penso abbia giocato molto bene forse addirittura è stato il migliore in campo del Palermo per quanto mi riguarda non mi è dispiaciuto assolutamente Mateju che trovo abbia giocato una gara molto concreta protagonista anche poi in fase difensiva con un salvataggio quasi sulla linea in una chance che il Brescia ha avuto in chiusura del primo tempo con Cistana e poi a centro campo buono anche Gomez che era un combattente e grande lottatore così come Coulibaly che ha fatto sicuramente molto bene non mi hanno convinto fino in fondo Brunori e Di Mancuso che lì largo sulla sinistra forse ha fatto un po' fatica ed è stato un po' fuori dal fulcro del gioco per il Palermo ripeto terrei solidità difensiva e i tre punti fondamentali e ora via in attesa di questa sfida col Cittadella del weekend che sarà molto importante per confermare questi tre punti arrivati ieri e per proseguire in questo percorso da favorita o comunque da squadra in lizza per la promozione per il Brescia la partita con la Cremonese una sfida che sarà molto molto delicata ripeto io trovo una squadra che fa un po' fatica a segnare fa un po' fatica a sfruttare il gioco che fa perché credo che l'amore di gioco comunque portata avanti dagli uomini di Gastaldello non sia così negativa Vandeloi anche trovo non abbia giocato una partita negativa War forse indietro in difesa ogni tanto c'è qualche svarione non c'è molta sicurezza ci Stana stesso si è un po' perso in un duello anche polemico con Brunori fin dall'inizio della partita e forse lì c'è qualcosa ancora da sistemare però ripeto il Brescia al di là di essere entrato ora in questa spirale di risultati negativi dopo invece un ottimo inizio di campionato trovo che sia una squadra comunque relativamente tranquilla anche per quelle che possono essere le posizioni basse della classifica almeno in questo momento della stagione in questo assetto volante non ho la possibilità di darvi le pagelle vi ho detto i migliori in campo a mio avviso per quanto riguarda il Palermo Marconi soprattutto Lucioni e Valente che è stato decisivo per il gol così come Coulibaly per il Brescia e viceversa mi sono piaciuti appunto soprattutto War e Vandelò e mi sono piaciuti a centrocampo anche Bertagnoli non mi era dispiaciuto l'ingresso poi nel secondo tempo di Bianchi a lato mobilità lì davanti anche se poi dopo alla fine si è quasi alle volte pestato i piedi con Moncini fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa sfida io vi ringrazio con la Serie B l'appuntamento è naturalmente a venerdì quando abbiamo già un anticipo spettacolare con la sfida tra il Venezia e il Catanzaro una delle partite clou di questa giornata grazie della prossima giornata grazie ragazzi iscrivetevi al canale ciao a tutti e un bacio da Robs